Ben trovato all'appuntamento con l'informazione, i numeri in rialzo per quanto riguarda il contagio da Covid in Sicilia, addirittura raddoppiati i nuovi positivi in provincia di Siracusa e anche a Catania. Riparte intanto l'open weekend vaccinazioni con un giorno di anticipo, quindi un giorno in più. Ancora numeri in aumento per quanto riguarda il coronavirus in Sicilia, i nuovi positivi sono infatti 1.288, 140 in più rispetto al giorno precedente, così come riportava ieri sera il bollettino quotidiano del Ministero della Salute. Addirittura raddoppiano in provincia di Siracusa, passando da 49 al 98. Esponenziale l'aumento di nuovi contagiati a Catania, ieri sera 517, ben 255 in più. In netta diminuzione invece nelle altre due città metropolitane, Palermo e Messina. Questo comunque il report dei nuovi positivi nelle province siciliane. 90 ad Agrigento, 110 a Caltanissetta, 517 a Catania, 27 a Enna, 98 a Messina, 298 a Palermo, 7 a Ragusa, 98 a Siracusa, 43 a Trapani. Il dato dei ricoveri negli ospedali siciliani rispetto al giorno precedente vede un incremento complessivo di 21 unità. In terapia intensiva sono in cura 182 persone, due in più rispetto al giorno prima. Il dato dei guariti è pari a 980 persone, 10 sono i decessi. I tamponi molecolari processati sono stati 9.924, quelli rapidi 19.125. Le dosi di vaccino, complessivamente inoculate, sono state 1.178.210. Ritorna in Sicilia intanto l'Open Weekend Anti-Covid con un giorno in più. La regione siciliana è steso la possibilità di vaccinarsi con Pfizer e Moderna senza prenotazione anche agli ovrottanti e a tutti i cittadini over 60 che appartengono alle categorie a elevata fragilità. Questa opportunità viene offerta solo negli hub provinciali da oggi a domenica. Resta confermata, così come nella settimana scorsa, la vaccinazione senza prenotazione per il target 60-79 anni senza fragilità con AstraZeneca in tutti gli hub e centri vaccinali della regione. Per velocizzare le procedure e diminuire i disagi e le attese dei cittadini, negli hub provinciali saranno istituite tre corsie di accesso alla vaccinazione. La prima riguarda i prenotati, la seconda i non prenotati, la terza dedicata a coloro che indipendentemente dalla prenotazione sono in possesso di anamnesi precompilata dal proprio medico di base che certifica una specifica condizione di fragilità rientrante tra quelle elencate dalla struttura commissariale nazionale. Un pool di magistrati per indagare su una quindicina di morti avvenuti per Covid nella prima ondata della pandemia negli ospedali siracusani. Ci sono diverse situazioni da vedere e soprattutto familiari che vogliono sapere tutto sulla morte dei loro congiunti. La Procura di Siracusa ha istituito un pool di magistrati per trattare i casi di morte dovuta al Covid per i quali sono state depositate denunce circostanziate ritenute meritevoli di un approfondimento delle indagini. Al vaglio della magistratura siracusana ci sono oltre una quindicina di casi sui quali si nutrono sospetti, quasi la metà degli esposti presentati in tribunale per casi di morte derivata o direttamente cagionata all'azione devastante del virus. I casi si sono tutti verificati nella prima ondata della pandemia, cioè avvenuti tra i mesi di marzo e maggio dello scorso anno nei centri Covid degli ospedali della provincia siracusana. Sulla vicenda di Calogero Rizzuto, il direttore del Parco archeologico della Neapolis, scomparso alla fine di marzo dello scorso anno dopo diversi episodi di ricovera e di dimissione dell'ospedale Umberto I, sta procedendo il pubblico ministero Carlo Enea Parodi. La famiglia Rizzuto, afferma l'avvocato Giovanni Giuca, è impaziente di conoscere l'esito, qualsiasi esso sia, della consulenza disposta dall'APM e depositata ormai da tempo. Per tutti gli altri casi la procura ha disposto una superperizia collegiale che sarebbe stata depositata il mese scorso, ma di cui ancora non si conosce l'esito, un riscontro scientifico che dovrebbe consentire agli inquirenti di stabilire se vi siano eventuali responsabilità da parte di terze persone. Ogni caso avrebbe comunque una storia a sé su una base comune in cui i legali difensori hanno rilavato errori di trascrizione nelle cartelle cliniche. Tra i casi, oggetto di approfondimento giudiziario, quelle di una donna di Siracusa, morta nel mese di marzo dello scorso anno, pochi giorni dopo il suo ricovero in ospedale a seguito del contagio da Covid. Nella cartella personale sarebbe stata rilevata la presenza di diabete di cui però i familiari sostengono non avesse mai sofferto. A un altro paziente, morto per Covid, è stata diagnosticata una neoplasia alla vescica operata dieci anni prima e dopo quell'intervento il problema non si sarebbe più ripresentato. Nella cartella clinica di un'altra donna di Esortino, come denunciato dai parenti, sarebbe stata trascritta una severa obesità di cui la donna non avrebbe mai sofferto. Ad eccezione di Rizzuto, sul cui cadavere è stata eseguita l'autopsia, anche se postuma, a tutte le altre vittime della prima ondata del Covid non è stato possibile eseguire l'esame autoptico. Adesso parliamo del nuovo decreto di riapertura che ha suscitato qualche rimostranza e si va sempre a tentoni, ma comunque per quanto riguarda il coprifuoco non tutti sono d'accordo sul mantenere le ore 22 fino a giugno inoltrato. Vediamo intanto che cosa cambia in tutto il Paranamo. Varato il nuovo decreto Draghi per la riapertura a partire dal 26 aprile, il provvedimento prevede il mantenimento fino al primo giugno del coprifuoco alle 22. Dopo maggio potrebbe essere valutata l'eliminazione o far partire il provvedimento dalle 23. Sarà possibile comunque sedersi ai tauri nei ristoranti al chiuso dal primo giugno. Il nuovo decreto legge Covid sarà valido dal 26 aprile al 31 luglio. Ma vediamo nel dettaglio che cosa prevede. Per la scuola dal 26 aprile fino alla fine dell'anno scolastico si torna in classe anche nelle scuole superiore e secondarie di secondo grado. La presenza è garantita in zona rossa al 50% e al 75%, in zona gialla e arancione dal 70% al 100%. Il decreto riaperture aumenta dal 60% al 70%, il limite minimo per le superiori in presenza delle zone gialle e arancioni. Per le università il decreto legge prevede che dal 26 aprile al 31 luglio nelle zone gialle e arancioni le attività si svolgano prioritariamente in presenza. Nelle zone rosse si raccomanda di favorire in particolare la presenza degli studenti del primo anno. Le certificazioni verdi rilasciate dagli stati membri dell'Unione sono riconosciute valide in Italia. Quelle di uno stato terzo, se la vaccinazione è riconosciuta come equivalente a quella valida sul territorio nazionale. Questo prevede ancora il decreto sulle riaperture approvato dal Consiglio dei Ministri nel passaggio in cui si disciplina il cosiddetto Green Pass per le circolazioni tra le regioni italiane, anche di diverso colore. Dal 26 aprile fino al 15 giugno in zona gialla e arancione è possibile andare a trovare amici o parenti in un'abitazione privata diversa alla propria, in quattro persone al posto di due. Dal 26 aprile chi è munito di certificazione verde potrà spostarsi da una regione all'altra anche se si tratta di zone rosse o arancioni. Secondo quanto stabilito dal decreto può avere il certificato verde chi ha completato il ciclo di vaccinazione, dura sei mesi dal termine del ciclo prescritto, chi si è ammalato di covid ed è guarito, dura sei mesi dal certificato di guarigione, chi abbia effettuato test molecolari o test rapido con esito negativo durata 48 ore dalla data del test. In relazione all'andamento epidemiologico e alle caratteristiche dei siti che ospitano cinema, teatri, sale concerto e live club, si potrà autorizzare la presenza anche di un numero maggiore di spettatori all'aperto rispetto ai 500 previsti al massimo al chiuso e ai 1000 posti all'aperto o al 50% della capienza rispetto all'indicazione del CTS e delle linee guida. Per gli eventi sportivi è possibile autorizzare lo svolgimento di questi eventi di particolare rilevanza anche prima del primo giugno. Per tali eventi, a tenuto conto delle caratteristiche dei siti, è possibile autorizzare la presenza di un numero maggiore di 1000 spettatori per gli impianti all'aperto e di 500 per quelli al chiuso. Esserebbe il caso del Teatro Greco di Siracusa. A Lentini, nonostante la zona rossa, sono in aumento i contagi e i nuovi positivi da coronavirus. Ce ne parla il nostro corrispondente Nello Lafada. A Lentini, la zona rossa è in vigore dalle 17 al 28 aprile prossimo, non sta contribuendo a fare abbassare il numero dei positivi al Covid-19. A Lentini, infatti, sono 113 positivi, a Carlentini 90, mentre a Francofonti appena 7. Nonostante le restrizioni, quindi, la situazione sanitaria nei comuni di Lentini e Carlentini non fa registrare risultati sperati. La chiusura della Villa Gorgia a Lentini e del Camposcuola, ordinata dal sindaco Bosco, in effetti, non è servita a fare rallentare i contagi, sostengono numerosi operatori della sanità, perché all'aria aperta il pericolo contagi diminuisce di gran lunga. Il pericolo numero uno, invece, sono i luoghi chiusi, come gli ascensori, che sono veri focolai di contagi, ma nessuno, però, ci fa caso. Per quanto riguarda, invece, le misure di contenimento, controlli della polizia a Calabernardo, dove in una villa c'erano molti giovani che si erano dati appuntamento lì e stavano facendo anche barbecue. Sentiamo. I poliziotti del commissarato di Noto hanno bloccato una festa in corso con numerose persone presenti. Nel corso dei servizi di prevenzione contro il diffondersi della pandemia da Covid, i poliziotti hanno fatto seguito a una segnalazione al numero unico di emergenze e sono intervenuti in una villetta nei pressi di Contrada a Calabernardo, dove un gruppo di 14 giovani, violando le norme anti-Covid, si erano assembrati per trascorrere una giornata, predisponendo anche il barbecue. Altri tre giovani, sempre minorenni, sono stati sorpresi senza mascherina fuori dal comune di residenza. Convocati i genitori dei minori, nella giornata di ieri, sono state formalizzate le relative a sanzioni amministrative per un totale di 8.000 euro. I controlli continueranno nel territorio della città di Noto e in tutta la provincia retusea per assicurare il preventivo rispetto della normativa anti-Covid posta a tutela della salute pubblica. Quattro anni fa l'incidente in via Bartolomeo Cannizzo in cui perse la vita il 17enne Renzo Formosa. Dopo quattro anni i genitori continuano a chiedere piena giustizia. Oggi 22 aprile, una data orribile per la famiglia di Renzo Formosa. Quattro anni fa la vita del giovane 16enne veniva stroncata da una Fiat Panda fuori controllo ad alta velocità con alla guida il 23enne all'epoca Santo Salerno che in un attimo invade la corsia e travolge Renzo mentre in sella al suo scooter in via Bartolomeo Cannizzo faceva rientro a casa dopo la scuola. Per la sregolatezza di un altro, per Lucia Di Franco il tempo si è fermato a quel 22 aprile del 2017. Da quel giorno la sua vita è stata svuotata della presenza di Renzo, del piacere di ogni madre di vedere crescere e realizzare il proprio figlio. Da quattro anni i gesti d'amore di una madre sono limitati in un cimitero, un fiore, tenere in ordine, arricchire con cuori e frasi d'amore rivolti al figlio Renzo, un bacio e poi, barcato il cancello del campo santo, per lei la dura realtà da affrontare, vivere senza l'amore della sua vita. Non deve calare mai il silenzio, dice Lucia. Logorata da una sentenza a carico di Santo Salerno che non rende giustizia al mio piccolo Renzo. Santo Salerno, il giorno della tragedia, guidava una Fiat Panda senza assicurazione. Figlio di un vigilo urbano, il padre era presente durante i rilievi sul luogo dell'incidente. Mentre Renzo all'Umberto I di Siracusa lottava tra la vita e la morte, a Santo Salerno non venivano effettuati gli esami tossicologici specifici e oggi è in pieno possesso della sua patente di guida. Questo è ciò che urla la famiglia di Renzo da quattro anni, affidati adesso al processo d'appello seguiti dal loro legale di fiducia. Con questo servizio guidiamo la prima parte del telegiornale. Passata con noi, seconda parte, ancora cronaca, c'è lo sport, quindi ci vediamo tra pochissimo. Qualità, professionalità e tecnologia sono le caratteristiche che contraddistinguono Physiorem Medical Center, una struttura polidiagnostica con più di dieci anni di esperienza, specializzata in diagnostica radiologica e riabilitazione fisica che si serve di attrezzature e strumentazioni all'avanguardia. Il sistema di risonanza magnetica OpenMark 5000 rappresenta la nuova generazione di risonanza magnetica a medio campo. Questo sistema combina le elevate prestazioni dell'alto campo con il vantaggio di un'architettura aperta. Questo permette di ridurre sensibilmente la sensazione di ansia del paziente. Dotarci di questo macchinario ci permette di ampliare la domanda di esami diagnostici per quanto riguarda l'osso articolare. Adesso riusciamo a dare anche un'offerta per quanto riguarda la parte neuro. Physiorem Medical Center La trovi a Siracusa Con la loro storica esperienza nel campo della lavorazione del ferro e alluminio i fratelli Zanghi garantiscono risultati eccellenti. Tecno Zeta specializzati in opere metalliche in genere avvolgibili in alluminio e PVC coperture e zanzariere. Un'azienda che si adatta all'evoluzione dei tempi con materiali innovativi e attrezzature sempre all'avanguardia per portare a termine e soddisfare le vostre esigenze. Serietà, competenza e qualità i punti di forza di Tecno Zeta dei fratelli Zanghi. Serramenti in alluminio e taglio termico infissi in alluminio legno e PVC Q-forte e ancora carpenteria metallica. A Siracusa in Viale Pantanelli 3E Tecno Zeta progetta e realizza le vostre esigenze. Sono qui a presentarvi il nuovo centro di riabilitazione a Siracusa si occuperà di fisioterapia e di fisiatria sia in ambito diagnostico che anche dal puntista terapeutico e ci occuperemo di medicina manuale e di osteopatia con la possibilità di effettuare dei trattamenti specifici sia privati e in futura convenzione appunto per la popolazione di Siracusa e della zona limitrofa. Ci occuperemo del paziente dalla parte gestionale dalla parte diagnostica così come nella fase pre e post chirurgica dell'eventuale successivo intervento ci occuperemo anche della parte conservativa quindi la terapia fisica manuale classica e la terapia fisica strumentale. Casa di cura Clinica Villarizzo Via Sebastiano Agati Siracusa Info 0931 70 81 11 Eccoci giunti alla seconda parte del telegiornale diciamo la cronaca che ci porta a Catania dove la Guardia di Finanza ha eseguito la confisca dei beni per 800 mila euro nei confronti di un catanese che era e è stato anche condannato per questo motivo il fornitore di cocaina del gruppo della Borgata Santa Lucia di Siracusa. Su richiesta della procura distrettuale di Catania sezione misure di prevenzione la Guardia di Finanza di Siracusa ha eseguito la confisca di un patrimonio stimabile nel valore di circa 800 mila euro illecitamente accumulato da Carmelo Di Domenico esponente della criminalità catanese. Di Domenico nell'ambito di un procedimento di prevenzione sempre coordinato dalla procura distrettuale di Catania era già stato qualificato come soggetto socialmente pericoloso in quanto dedito abitualmente alla commissione dei delitti determinati da finalità di lucro aveva ricevuto in passato più condanne definitive per reati di diversa natura tra cui quelli connessi allo spaccio di stupefacenti. Proprio puntando l'attenzione alla condanna inflitta dalla Corte d'Appello di Catania il 23 gennaio del 2019 per spaccio di stupefacenti nell'ambito del procedimento penale sono stati raccolti elementi di indagine che hanno acclarato come Di Domenico fornisse in via continuativa cocaina a esponenti del gruppo della borgata sulla base delle evidenze giudiziarie acquisite risultate idonee a definire il profilo di pericolosità sociale i militari del nucleo di pulizia economico-finanziare di Siracusa hanno eseguito un'indagine patrimoniale nei confronti dell'uomo e del suo nucleo familiare per verificare la coerenza del loro tenore di vita e del patrimonio posseduto con i redditi dichiarati. Le indagini hanno permesso di riscontrare le incapacità del nucleo familiare a far fronte agli impegni economici assunti l'insieme dei redditi dichiarati o percepiti confrontati con il valore dei beni sequestrati e con le ulteriori uscite rilevate nel periodo temporale di riferimento quindi l'anno 2000 in poi sono risultati sproporzionati all'esito degli approfondimenti patrimoniali già nel dicembre 2018 erano stati acquisiti elementi idoni per consentire alla procura etnea di chiedere e ottenere dalla sezione misure di prevenzione del tribunale il sequestro dei beni in particolare 5 immobili tutti a Catania di cui 2 unità abitative e 2 fabbricati di recente costruzione e quote di un quinto immobile una nuova attività di ristorazione che opera nel centro storico di Catania e rapporti finanziari oltre che beni mobili registrati per un valore complessivo di 800 mila euro arrestati a Palermo tre operatori di un centro per disabili mentali secondo l'accusa maltrattavano gli ospiti anche le immagini sentite sono scattati gli arresti domiciliari per tre operatori di un centro per disabili mentali nel quartiere Brancaccio a Palermo sono stati arrestati per avere picchiato e maltrattato gli ospiti della struttura i carabinieri hanno seguito nei loro confronti l'ordinanza di custodia degli arresti domiciliari per altri due invece è scattato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalle persone offese il personale coinvolto in questa vicenda di violenza verso categorie fragili è accusato di maltrattamenti l'indagine coordinata dai magistrati della procura di Palermo ha svelato che nel centro residenziale per disabili i pazienti venivano picchiati sottoposto a continue punizioni fisiche e umiliazioni psicologiche le intercettazioni ambientali audio e video effettuate 24 ore su 24 all'interno della struttura con la presenza a poca distanza di una pattuglia pronta a intervenire hanno documentato azioni sconcertanti ben lontane dalla mission del centro assistenziale nelle immagini si vede un operatore che batte a terra un disabile seduto su una poltrona e ancora un'altra operatrice che picchia un giovane che non voleva stare seduto o un dipendente che lancia una sedia contro un ospite in alcuni casi gli assistiti venivano strattonati spinti sui divani o colpiti con schiaffi così forti da far loro sbattere la faccia contro il muro gli inquirenti nel corso delle indagini durata mesi hanno assistito a un uso della violenza in una struttura che avrebbe dovuto rappresentare per gli ospiti un luogo di assistenza e di cura a carlentini invece i carabinieri hanno arrestato due persone catanesi che si erano introdotti in un cantiere di le stavano smontando un ponteggio i carabinieri della stazione di carlentini sono intervenuti presso un cantiere incontrato a San Leonardo Sottano dove in via di costruzione una struttura alberghiere hanno arrestato i pregiudicati catanesi Angelo Cristian Platania 28 anni e Ivan Faro 22 mentre erano intenti a smontare un ponteggio edile i due si erano ben organizzati portando con sé tutto il materiale più idoneo per smontare rapidamente i ponteggi e si erano recati sul posto con una moto ape per caricarvi sopra l'area furtiva e allontanarsi rapidamente tuttavia i due ladri sono stati sorpresi dai carabinieri che stavano svolgendo in zona un servizio di perlustrazione e che avendo notato le manovre dei due malviventi li hanno arrestati e condotti dopo le formalità presso la casa circondariale di Cavadonna significativo il fatto che i due giovani avessero deciso di compiere il furto non nel loro territorio di residenza bensì in un altro dal quale si sarebbero allontanati subito dopo facendo perdere le proprietacce e rendendo così ardua la loro identificazione nello stesso cantiere infatti già da qualche giorno i carabinieri per lo stesso reato avevano arrestato altri quattro catanesi che stavano tentando di smontare furtivamente un ponteggio per lavori edili caricandone le parti in un furgone per tale ragione sul loro conto è stata avviata la procedura per l'erogazione del foglio di via obbligatorio onde non permettere più che in futuro possano nuovamente recarsi sul posto in via amministrativa infine i due sono stati sanzionati per le violazioni connesse alle normative covid-19 essendo usciti dal territorio del proprio comune di residenza in costanza di zona arancione sulla vicenda relativa ai 300 dipendenti part-time del comune di Siracusa scoppia la polemica tra il sindaco Italia e il sindacato dei lavoratori la presa di posizione del sindaco di Siracusa sulle richieste avanzate da dipendenti comunali che rivendicano dignità lavorativa attraverso un contratto full-time dopo anni di lavoro prima precario e poi part-time è stata alquanto irrispettosa l'appunto è mosso dal responsabile della funzione pubblica della CGL Franco Nardi secondo cui l'atteggiamento del sindaco va condannato perché è palesemente offensivo nei confronti dei circa 300 lavoratori che da anni svolgono mansioni superiori e regono l'ossatura dell'intera macchina amministrativa comunale il sindaco Italia si è doludo del sit-in fatto qualche giorno fa proprio davanti Palazzo Vermexio e aveva annunciato che negli atti di programmazione del fabbisogno del personale 2020-2021 l'amministrazione ha programmato l'assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale per profili professionali che sono rimasti vacanti a seguito dei pensionamenti negli ultimi 5 anni ovvero dirigenti e funzionari per l'assunzione dei quali sono in corso le procedure concorsuali Nardi dal canto suo invita il sindaco a frequentare di più gli uffici dell'amministrazione comunale a chiedere ai propri dirigenti come sono organizzati gli uffici e i servizi e quali mansioni reali e non fittizi vengano affidate alla maggioranza dei lavoratori part-time inquadrati nel livello professionale B poi l'invito al primo cittadino di andare a trovare sul posto di lavoro questi lavoratori e verificare quali mansioni e responsabilità siano loro assegnate in modo da rendersi conto che grazie alla loro professionalità responsabilità e senso del dovere permettono oggi alla gran parte degli uffici di garantire una regolare attività amministrativa intanto i lavoratori continueranno nei prossimi giorni le azioni di lotta e di protesta nell'ospicio che l'amministrazione possa essere illuminata dal buon senso e non dalla supponenza dice ancora Nardi come in queste ore ha dimostrato il sindaco l'amministrazione comunale intervenga regolarizzando gli orari di lavoro dei dipendenti comunali part time con azioni concrete questo è anche l'intervento a proposito del servizio che abbiamo appena sentito da parte della funzione pubblica della CISL Daniele Passanisi e del responsabile del responsabile aziendale del Comune Siracusa sempre per la funzione pubblica della CISL Francesco Miceli dopo le dichiarazioni del sindaco riguardo alla protesta il sit-in di protesta che i lavoratori hanno svolto alla Comune Siracusa riteniamo le affermazioni del sindaco completamente fuori luogo dicono Passanisi e Miceli e auspichiamo che siano riferite alla poca conoscenza della vicenda andiamo a Canigattini invece perché il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2021-2023 si è fatto anche il punto della situazione sul covid nella paese nel centro collinare sentiamo nell'ultima seduta del Consiglio Comunale il sindaco di Canigattini Bagni Marilena Miceli ha fatto il punto della situazione dei contagi covid in paese al momento si registra un solo cittadino positivo in via di guarigione e una studentessa di un istituto superiore di Siracusa posta in quarantena una situazione che ha sottolineato il sindaco Miceli rispetto a quanto sta accadendo nei comuni limitrofi siamo riusciti a contenere con il contributo di tutti nel pieno rispetto alle misure preventive previste vogliamo augurarci che si dia un'accelerazione ai vaccini che a Canigattini si svolgono nel centro vaccinale di via Umberto ogni giovedì al momento per le fasce dai 60 e 79 anni e da questa settimana anche per gli over 80 senza bisogno di prenotazione il Consiglio Comunale ha approvato il piano della valorizzazione e dismissione dei beni immobili dell'ente per il triennio 2021-2023 a illustrarlo il vice sindaco Savarino che ha ricordato che l'unico immobile cancellato essendo già inserito nel progetto di riqualificazione della zona est già finanziato e appaltato e l'ex lazzaretto dei campicelli destinato a contenitore culturale multifunzionale programma dei lavori pubblici triennio 2021-2023 e delle forniture di beni e servizi per il biennio 21-22 elenco annuale dei lavori del 2021 il capogruppo di minoranza Danilo Calabro ha criticato l'ultimazione del campo sportivo in erba sintetica con la variante i lavori supplementari attraverso mutui con la cassa depositi e prestiti non ritenendo l'opera prioritaria rispetto ad altri bisogni della città di tutt'altro parere il capogruppo di sviluppo e futuro Sebastiano Gazzara che ha ribadito la volontà della maggioranza di garantire alle future generazioni canicattinesi una struttura sportiva efficiente e all'avanguardia il programma dei lavori pubblici è stato poi approvato con il voto a favolevole di otto consiglieri di maggioranza e il voto contrario di due di minoranza l'aula ha approvato anche il documento unico di programmazione e il bilancio di previsione 2021-2023 la programmazione del bilancio ha commentato il sindaco Miceli in considerazione della perdurante crisi economica da covid è improntata in continuità con quella definita per l'anno 2020 senza agire in alcun modo sulla pressione tributaria delle famiglie e delle imprese nonostante le difficoltà il comune ha chiuso il bilancio 2021-2023 in equilibrio nel rispetto alla finanza pubblica garantendo un livello dignitoso dei servizi erogati alla collettività siamo allo sport e parliamo di pallannuoto si chiude con un pareggio l'avventura in Champions League per l'Ortigia che ieri sera ha impattato con lo Spandau sentiamo come l'Ortigia di pallannuoto chiude con il pareggio contro lo Spandau Berlino la sua prima esperienza in Champions League il match inizia all'insegna del grande equilibrio a fine partita le parole di Simone Rossi sicuramente in avvio oggi siamo stati sfortunati visto che a loro sono entrate due conclusioni come con difesa avevamo previsto sulle quali hanno avuto fortuna poi soprattutto nel quarto tempo avremmo potuto essere più efficaci al tiro eravamo anche un po' stanchi nel finale ma gli episodi ci hanno impedito di chiudere a nostro favore la partita il difensore Biancoverde analizza questa tre giorni di Champions e traccia un bilancio complestivo sostenendo che rimane rammarico per non aver potuto fare meglio visto che in questo terzo concentramento la squadra è nelle migliori condizioni fisiche ma gli episodi hanno giocato un ruolo determinante la formazione ha bisogno adesso di risettare per ripartire nella consapevolezza degli errori commessi e che hanno contribuito al loro digiuno di vittorie per l'Ortigia che adesso arriva a due mesi l'attaccante Biancoverde Cristiano Mirarchi sostiene che la squadra abbia fornito un'ottima prestazione contro lo Spandau Berlino e contro le altre due formazioni straniere incontrate nel cammino di Champions c'è un po' di rammarico per non essere riusciti a vincere una partita ma anche la consapevolezza che la squadra sta meglio ci sono indubbiamente delle cose che dobbiamo migliorare ha detto Mirarchi in vista di questo finale di stagione nel quale dovremmo dare il massimo perché siamo ancora in corsa in campionato in Coppa Italia bisogna apprendere gli aspetti positivi e tutti gli insegnamenti che ci torneranno utili in questa fase conclusiva della stagione andiamo adesso a vedere le previsioni meteo previsioni per oggi al mattino a nord cieli nuvolosi per il transito di estese velature a sud molte nubi con deboli piovigini nel pomeriggio a nord schierite alternate a nubi sparse a sud molte nubi con deboli piovigini previsioni per domani al mattino a nord cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita a sud cieli nuvolosi per il transito di estese velature nel pomeriggio a nord cieli coperti con piogge battenti a sud cieli coperti con scrosci di pioggia intermittenti con la previsione meteo seguita questa edizione del telegiornale vi ringraziamo per averci seguito fin qui un appuntamento alle prossime edizioni e ancora arrivederci buonasera Grazie a tutti. Grazie a tutti.